Buongiorno Sindaco, siamo qui stamattina per i carottesi che si fanno onore nel mondo. Ma dopo tanti nomi abbastanza importanti di carottesi che davvero si sono fatti onore nel mondo, oggi abbiamo le scuole. È un augurio per i carottesi che si faranno onore nel mondo? Abbiamo cercato anche di guardare la storia, perché ognuno diventa grande se nasce, cresce e impara. Quindi anche per quelli che hanno già avuto questo premio e hanno portato il nome di carotto nel mondo, bisogna riconoscere sempre e comunque che sono stati alunni, studenti e probabilmente se hanno veramente imparato la lezione continueranno a imparare. Quindi sicuramente è una carezza per quelli che hanno già attraversato queste aule, ma credo anche, lo suggerivi tu, ma è una suggestione bellissima, quella di pensare ai carottesi che verranno domani. La scuola è questa crocevia oggi indispensabile. Ma indispensabile anche perché, guarda, pensavo stamattina che la cosa più bella è che la scuola non è stata in metà dell'uomo, la scuola è nata con l'uomo. Dove c'è un cucciolo e un adulto c'è scuola. Per cui se vogliamo effettivamente pensare a un domani migliore, a un futuro possibile, bisogna tutti andare a scuola. E questo è l'augurio che noi facciamo a tutti questi ragazzi che sono qui stamattina. Grazie.